Dottoressa Missera Fiti, a un anno dal primo incontro con il cuore a merito di Portosalvo ci rivediamo. Il bilancio intanto del primo anno di attività. Noi abbiamo visto moltissimi pazienti nel poliambulatorio, mentre vediamo qui invece un reparto nuovo pronto per essere inaugurato e questo va dato atto anche al buonsenso dell'ASP di Reggio di Calabria e soprattutto anche alla professionalità sua e di tutti i suoi collaboratori che nel corso dell'anno siete riusciti ad implementare così tanto il servizio e a fare un fiore all'occhiello per il rilancio dell'ospedale di Berivero di Merito di Portosalvo. Sì, noi siamo qui da più di un anno. Il nostro compito era quello di organizzare un reparto completamente nuovo, inesistente, nell'ospedale, nella realtà dell'ospedale di Merito Portosalvo. Sicuramente non è stata una cosa molto facile. Siamo partiti da zero, proprio da zero. Abbiamo cominciato a lavorare con gli ambulatori in attesa di avere il completamento delle procedure con la definizione dell'organico dei medici, degli infermieri, fisioterapisti, acquisto degli strumenti, ristrutturazione dei locali. Adesso, a distanza di un anno, possiamo dire che il reparto è pronto, nel senso che la degenza ordinaria, il ricovero H24, può partire. Naturalmente, ancora, i problemi non sono stati tutti risolti. Il problema che abbiamo ora è l'organico degli infermieri. Purtroppo non abbiamo il numero sufficiente per garantire i turni, l'assistenza H24. Devo dire comunque che c'è una forte attenzione da parte delle istituzioni, da parte dei commissari dell'ASP. Quindi, appena riusciremo ad avere proprio il numero minimo per garantire l'assistenza H24, come dicevo prima, apriremo anche con il ricovero ordinario. In quest'anno, sicuramente, abbiamo lavorato tantissimo. C'è stato un grande afflusso di gente, non solo dai paesi vicini. Qualche dato? Beh, se consideriamo che noi, fino a questo momento, non abbiamo avuto la disponibilità di tutta la diagnostica, ma solo una parte, nel senso le vise, l'elettrocardiogramma, l'ecocardio, l'ecodopple dei tronchi sovaortici, noi abbiamo chiuso in un anno con 8.600 prestazioni, complessivamente. A marzo contiamo di ampliare gli ambulatori, aprendo anche gli ambulatori dell'alter dinamico, cioè la registrazione dell'elettrocardiogramma nelle 24 ore, dell'alter pressorio, cioè misurazione della pressione per 24 ore, dei testi da sforzo con tapirulan e con cicloergometro e in un futuro, diciamo, prossimo. Dovremmo aprire, abbiamo intenzione di aprire anche l'ambulatorio per le polisonnografie, per quanto riguarda la diagnostica dei disturbi del sonno. I disturbi del sonno rappresentano, come diremo poi, un fattore di rischio cardiovascolare molto importante, fare la diagnosi e curare vuol dire non solo ridurre il rischio cardiovascolare, ma ridurre anche gli incidenti che magari si verificano proprio per la riduzione dell'attenzione della persona che soffre di questi disturbi. Bene, capisco che lei ha molte cose da dire e vedo anche quanto lei ama questo ospedale perché diciamo che lei ha voluto scommettere in realtà su un luogo, su una località e su un ospedale che era già in agonia. E la riuscita di questa avventura, di questa impresa, è peggio di quella di Cristoforo Colombo. Insomma, lei è riuscita nel giro di un anno a far rinascere intanto una parte dell'ospedale. E potremmo anche dire che oggi, nella giornata dedicata al cuore, può essere dedicata anche al cuore del Tiberio Euli, che potrebbe ripartire, se questo è un buon esempio di buona sanità, così come l'ho stato in questo anno. Ma vorrei chiederle quali sono, intanto questa è una giornata nazionale, si tiene in tutta Italia, c'è la Banca del Cuore, eccetera, la fondazione. Quali sono le novità di quest'anno? Cosa farete questa mattina, accogliendo i cittadini? E poi quali le novità rispetto all'anno precedente? Sì, allora, visto il successo dello scorso anno, anche quest'anno il nostro reparto ha partecipato all'evento nazionale per la prevenzione delle malattie cardiovascolari promosso dall'AMCO, dall'Associazione Nazionale Cardiologi Ospedalieri e dalla Fondazione Nazionale per il tuo cuore. Sì, parleremo sicuramente di prevenzione. I nostri ambulatori sono aperti a chiunque vuole effettuare un elettrocardiogramma. Oggi è gratis. Oggi è gratis, l'accesso è praticamente libero, senza impegnativa e senza niente. Io e i miei collaboratori siamo a disposizione delle persone che vogliono, come dicevo prima, effettuare un elettrocardiogramma, misurare la pressione e valutare comunque il rischio cardiovascolare. La novità di quest'anno è che parteciperemo al progetto della Banca del Cuore. Praticamente noi, nel corso dell'anno, per chi lo richiede, i dati della visita potranno essere inseriti su una card che poi può essere utilizzata in qualsiasi parte d'Italia se uno ha bisogno di effettuare una visita. L'altra cosa è che devo ringraziare anche le iniziative della città, della cittadina di merito portosalvo e soprattutto i maestri pasticceri che molto generosamente hanno offerto i dolci, i cosiddetti dolci del cuore perché ha ridotto contenuto calorico e soprattutto confezionati con ingredienti, con quelli che sono i prodotti della nostra terra cioè il succo di bergamotto, l'olio d'oliva e usando lo zucchero di canna a posto dello zucchero, quello che si usa di solito. Bene, l'ultima domanda. Lei certamente ha il merito di aver saputo guidare un'equipe di personale medico e paramedico per raggiungere questi eccellenti risultati, ma qual è il segreto per credere in un posto come questo e per riuscire poi nell'impresa? Beh, sicuramente amare il proprio lavoro, essere convinti di quello che si fa e poi personalmente sono legata a questo posto io sono nata in questo ospedale e non ci venivo da parecchi anni, vederlo in agonia onestamente non potevo stare senza far niente ho cercato di fare quanto mi era possibile fare. Devo dire comunque che sono stata fortunata perché ho avuto con me dei collaboratori che hanno creduto a quello che io ho detto, che hanno lavorato veramente tanto, parlo dei miei colleghi medici ma parlo anche degli infermieri, della fisioterapista e di tutto il personale anche al di fuori dell'ospedale che ha sempre collaborato con noi. Noi abbiamo fatto il trasferimento di reparto ieri in una giornata grazie al lavoro fuori orario e con grande sacrificio di tutti quanti. Ecco, questo vuol dire lavorare bene, lavorare in equipe ecco, sono convinta che se si lavora bene assieme il segreto del successo è proprio quello. Bene, noi la ringraziamo, le facciamo tanti auguri per il proseguimento di questa attività e soprattutto i complimenti per il lavoro svolto I nostri telespettatori invece cittadini vogliamo dire che oggi ci troviamo appunto al centro cuore, diciamo a melito di Portosalvo nell'unità operativa di riabilitazione, no? Ma che non solo questo reparto, quindi per non essere sempre, qui ci piangiamo sempre negativo invece in questo paese, questo ospedale può essere rilanciato e ci sono tutti i presupposti questo è un esempio, un buon esempio che laddove c'è qualcuno che ci crede, anche l'ASPO poi ci crede infatti ha fatto questo bellissimo reparto che deve essere inaugurato ma che manca ancora il personale, come diceva lei e manca ancora qualche apparecchiatura, qualche attrezzatura necessaria ma a parte questo c'è anche il reparto di oncologia che sta per essere lanciato lo dice approfittiamo per dire che in merito di Portosalvo non essere sempre amanti dell'erba del vicino cioè andare sempre fuori a Reggio di Calabria, altrimenti rischieremo di fare come per il punto nascita e poi alla fine se non ci sono, come nel caso invece al contrario di questo centro di riabilitazione i pazienti, è chiaro qui perché l'ASPO ha rilanciato? Ha rilanciato perché ha visto che c'è il numero di pazienti in crescita, in forte crescita, c'è veramente numerosissimi pazienti che la mattina e io l'altra mattina sono rimasto per la verità entusiasmato quando ho visto il corridoio dall'altra parte nell'ambulatorio pieno quindi questo significa che se la gente viene vuol dire che è stata servita bene cioè che c'è una buona sanità, questa buona sanità ci può essere anche nel reparto di oncologia perché no? Poi noi abbiamo la dermatologia che è un'eccellenza per esempio regionale quindi dobbiamo smetterle insomma come cittadini dell'area grecanica di parlarci sempre male addosso questi sono i buoni esempi della sanità a merito di Porto Sapo, grazie dottoressa grazie 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 grazie